Sindaco, anche il Comune di Naro sposa la battaglia dei Forconi. Sì, il Comune di Naro è in prima fila per questa battaglia che i nostri agricoltori stanno portando avanti con pieno diritto perché è una battaglia che non è per protestare, non è per lo sciopero, per qualche tipo di rivendicazione. Qua si tratta di problemi ormai dove la nostra gente, i nostri agricoltori sono disperati, non hanno più la possibilità di portare avanti le loro attività, di poter portare avanti le loro iniziative, di poter portare avanti la loro impresa agricola. Loro hanno investito, investono molto, sono gente che lavorano nell'agricoltura, che sono gente che sanno sacrificarsi tutto l'anno per lavorare, per portare alla fine a maturazione il loro prodotto. Il problema è dopo, il problema è poi la vendita che non riesce con il prezzo che si riesce a spuntare a coprire i costi. Quindi questa gente sta finendo ormai che abbandona i terreni, abbandona le loro imprese e i nostri terreni sono sempre più desolati, sono sempre più in mano alla gente che pensa solo a rubare, a rovinare i nostri territori. In una statistica che ho visto dell'Istat, circa 200 giornate lavorative di un'azienda agricola vengono impiegate per documenti vari. A questo punto mi chiedo come fanno questi agricoltori o le aziende agricole a trovare il tempo per poter lavorare. Le faccio notare una cosa, che spesso il ricavo di un'azienda agricola viene annullato da un qualsiasi verbale che è un qualsiasi ufficio per una sciocchezza, perché gestire un'azienda agricola non è semplice come un lavoro d'ufficio. Quindi queste persone magari oggi si trovano spesso a non essere in regola, non perché non vogliono essere, ma perché non c'è la preparazione in campo per regolarizzare le aziende agricole. Io spero, sinceramente, il mio augurio, quello di stasera, è quello di sostenere al massimo questa crisi agricola che il combattimento agricolo sta vivendo, con la presentazione appunto di questa piattaforma in Consiglio Comunale che verrà votata e avallata da me. A giorno 6 ci sarà un altro appuntamento importante a Palermo. Noi a cominciare già da lunedì, oggi abbiamo avuto una riunione a Catania, abbiamo stabilito che già da lunedì in poi inizieremo nuovamente con i presidi sulle strade. Non saranno i blocchi, noi non vogliamo arrecare danno a nessuno, vogliamo fare opere di sensibilizzazione dei volantinaggi sulle principali strade siciliane, all'ingresso delle città e dei paesi. In preparazione di giorno 6, giorno 6 noi andremo a Palermo, abbiamo detto chiaramente alla politica, alle questure, i nostri nemici non sono i poliziotti che fanno da cordone a quella che è la politica. Noi dobbiamo puntare dritto al palazzo, noi vogliamo che la classe politica si attiene al bene dei siciliani una volta per tutte, non sarà la passeggiata a Palermo con il fischietto, ma credo che sarà una tappa, non sarà sicuramente la soluzione di tutti i problemi dei siciliani, ma credo che sarà una tappa importante da scrivere nella storia. Abbiamo cominciato già il giorno 16 di gennaio a cambiare pagina, a scrivere una nuova pagina di storia, credo che il giorno 6 di marzo sarà un'altra tappa importante. Io volevo fare solo un invito a tutti i lavoratori di Naro e dei Canicattì, svegliatevi e venite con noi a Palermo perché abbiamo bisogno di tutti.